E dove stiamo andando? Che bella, Barcellona, wow! Dove stiamo andando? A la Rambla. Olè! Sei morto io. Antonella e Elia e il suo compagno Pietro sono partiti nuovamente per le vacanze, scegliendo questa volta come meta la splendida Barcellona. La coppia ha approfittato di un evento che si è svolto in città per combinare relax e turismo, godendosi le bellezze del luogo. Durante il loro soggiorno hanno esplorato i famosi mercatini tipici, assaporando l'atmosfera vivace e colorata della capitale catalana. Tra un acquisto e l'altro, Antonella e Pietro hanno realizzato diversi video, condividendoli con i fan che seguono con entusiasmo ogni loro spostamento e le divertenti avventure di coppia. Nonostante il divertimento, il pensiero della loro nuova casa rimane sempre presente. Dopo un lungo periodo di lavori e aggiustamenti, l'abitazione sta finalmente prendendo forma, trasformandosi in un rifugio accogliente. Antonella non vede l'ora di tornare a Milano per vedere i progressi e continuare a dare il suo tocco personale alla casa. Le vacanze a Barcellona sono quindi una piacevole pausa, ma con un occhio sempre rivolto al futuro. Grazie a tutti.